Un ufficiale del Re aveva un figlio malato e allora va verso Gesù per chiedere al Signore di venire a Cafarno e guarire il suo figlio. Questo ufficiale aveva fede in Gesù, credeva che il Signore avesse il potere di guarire il suo figlio uomo, però questa fede era imperfetta, credeva in Gesù come una sorta di taumaturio, ma non aveva fede ancora nella divinità di nostro Signore Gesù Cristo. La fede di questo ufficiale del Re è molto inferiore a quella, per esempio, del centurione romano che avvicinandoci al Signore dice «Signore, non sono dei, non credo, entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito». Credeva già a questo centurione di Gesù, essendo Dio, figlio di Dio, poteva agire anche a distanza. E il Signore loda la fede del centurione e gli dice «Non ho trovato una fede così grande in tutto Israele». Quindi questo ufficiale del Re aveva fede, ma una fede imperfetta. E Sanvedo il Venerabile ci dice che il Signore piano piano agisce in modo che questa fede diventi sempre più perfetta. Egli aveva l'inizio della fede. Vediamo come questa fede cresce quando il Signore dice all'ufficiale del Re «Tuo figlio vive», a distanza così. E questo ufficiale crede in Gesù e subito va verso la sua casa. Ecco che gli vengono incontro dei suoi servitori per dirgli che allora stessa in cui Gesù aveva detto «Tuo figlio vive», ecco che il suo figliolo aveva cominciato a star meglio e era uscito dal pericolo della morte. E allora ecco che la sua fede che era cresciuta diventa perfetta. Credete in Lui, ci dice il Vangelo, e tutta la sua famiglia. Questo ufficiale del Re diffuse la fede in tutta la sua famiglia. Vediamo come il Signore realizza dei miracoli straordinari durante la sua vita pubblica, però richiede sempre la fede. E la fede che è all'origine dei miracoli. E il Vangelo ci dice che appunto a Nazareth, che era la sua patria, Gesù fece pochi miracoli perché non trovò questa fede. Pochi credettero in Lui. E Gesù dirà «Nessuno è profeta nella sua patria». E vediamo anche come il Signore quando trova la fede agisce sempre in modo da far crescere questa fede. C'è questo episodio bellissimo dei dieci leprosi che sfidano la morte avvicinandoci a Gesù nei pressi di un centro abitato, rischiavano una latinazione per chiedere al Signore di essere guariti. Una fede già grande, ma Gesù non li guarisce subito. Dice loro «Andate e mostratevi ai sacerdoti». E loro pur restando leprosi, cosa fanno? Vanno verso Gerusalemme per mostrarsi ai sacerdoti. E nel percorso saranno guariti. Uno solo tornerà per ringraziare il Signore. E a lui solo Gesù dirà «La tua fede ti ha salvato» perché non è l'opera, tra le quali la gratitudine. C'è un altro episodio molto bello di questa donna cananea, pagana, che chiede al Signore di guarirgli la figlia e Gesù non ascolta neanche lì. E poi, poiché essa insiste, il Signore gli dice «Non è bene prendere il pane dei figli uoi per darlo ai cagnolini». Lei era pagana, Gesù era venuto per il popolo di Israele, il popolo scelto da Dio per dare il Messia. Ma questa donna non si scoraggia. Dice «Signore è vero in tutta umiltà, ma anche i cagnolini sono sotto la tavola e mangiano le briciole che cavano». E il Signore allora ti dice «Grande, o donna, è la tua fede, va tua figlia e guarita». Vedete come il Signore agisce in modo che questa fede diventi sempre più grande. ci sono altri episodi che mostrano come quando la fede è profonda, strappa il miracolo da Gesù, come l'emorroista, questa donna che aveva un flusso di sangue da tanti anni nessun medico l'aveva guarita e si diceva «Se soltanto giungesse a toccare la frangia del mantello del Signore, sarò guarita». La tocca ed è guarita istantaneamente. Gesù si gira dicendo «Chi mi ha toccato?». Era circondato dalla fole del posto e gli dicono «Signore, chi ti ha toccato?». Guarda tutta la fole intorno a te. Ho sentito una forza di miracolo uscire da me. Questa donna ha strappato il miracolo da Gesù per la sua fede. Questo è molto importante per noi. Quando preghiamo, dobbiamo pregare con fede. E se il Signore non ci esordisce subito è proprio perché vuole provare la nostra fede. è il momento di perseverare, di insistere. E allora? E allora? Se la nostra fede grande può ottenere dei miracoli straordinari. La fede ha un'importanza capitale nella nostra vita cristiana. Il primo passo verso Dio. San Paolo ci dice che senza la fede noi non si può piacere a Dio. E Gesù dicendo agli apostoli di andare a predicare il Vangelo dappertutto, dirà «Chi crederà sarà salvo, chi non crederà sarà condannato». E la chiesa, al momento del battesimo, quando un bambino è presentato, chiede a questo bambino «Cosa domandi alla chiesa di Dio?». E per la voce del padrino e della madrina, egli risponde la fede, la fede. Cosa ti procura la fede? La vita eterna. Ecco perché noi dobbiamo conservare questa fede, aumentarla in noi e proteggerla, proteggerla in questo periodo così difficile. Cos'è quindi la fede? La fede non è un sentimento, non è la consolazione che possiamo avere ogni tanto quando preghiamo, quando riceviamo la Santa Comunione, no. La fede è un'adesione dell'intelligenza alla verità rivelata da Dio, ai misteri che Dio ci ha rivelato che superano la nostra ragione, che non possiamo comprendere. Certamente. Ma li crediamo perché Dio ce li ha rivelati e non può né ingannarsi né ingannarsi. Quindi un'adesione dell'intelligenza sotto l'influenza della volontà e della grazia di Dio, certamente. Non si può credere in Lui senza la sua grazia, ma questo grazie il Signore la concede perché vuole la salvezza di tutti gli uomini. Gesù è morto, è morto per tutti, per la salvezza di tutti e se qualcuno si danno è per colpa sua. E la ragione ci dispone alla fede, perché la ragione ci porta a sapere con certezza che è Dio che ci ha parlato. Vedete, Gesù ha rivelato dei grandi misteri come quello della Santissima Trinità. Richiedeva la fede perché? Perché parlava in nome di Dio. E come provava il fatto di parlare in nome di Dio? facendo dei miracoli straordinari. Il miracolo è la sospensione della legge della natura che solo Dio può operare. E quindi Gesù dicendo io sono il figlio di Dio e per provarvelo guarisco i lebrosi, risuscito i morti, do la vista ai ciechi. Ecco che di fronte a queste opere la risposta di ogni uomo che cerca la verità deve essere la fede. Credere a questi misteri che superano la ragione senza contraddirla, perché la ragione ci dice che quest'uomo parla in nome di Dio, perché può fare solo quello che Dio fa. La fede in Gesù è nella Chiesa che trasmette appunto l'insegnamento di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi siccome la fede è così importante, il demonio cerca evidentemente di distruggerla, perché se distrugge la fede nelle anime le conduce all'inferno. Ecco perché agisce negli spiriti con tentazioni per allontanare il nostro cuore e la nostra mente dall'adesione ferma a queste verità che Dio ci ha rivelato. La tentazione non è peccato, non dobbiamo turbarci durante la tentazione, ma è il momento di reagire facendo degli atti di fede e non cominciare così a tentennare. In quei momenti ci vuole un'adesione ferma. Signore, credo, sono pronto a morire per la fede. Conoscete questa storia sicuramente nella vita di San Vincenzo de Paolo. Un giovane studente era venuto a trovarlo dicendogli di avere tentazioni terribili contro la fede e questo sacerdote nella sua genovesità aveva pregato il Signore di dare a lui le tentazioni di questo giorno. Allora il povero San Vincenzo giorno e notte era salito da queste tentazioni terribili quando celebrava la messa in qualunque momento. E allora? E allora cosa decide di fare? Scriva il credo e firmarlo col proprio sangue. E si mette questo scritto sul petto. Ogni volta che aveva una tentazione si toccava il petto per rinnovare questo atto eroico di fede. E così il demonio che non ama essere sconfitto l'ho lasciato tranquillo. Però quando la pace ritorna nella serenità allora è bene approfondire la fede. Cercare spiegazioni, approfondire la verità rivelata anche perché noi dobbiamo trasmettere questa fede. E per proteggere la fede dobbiamo evitare. Ogni lettura empia oggi in mondo. Tante letture cattive circolano nel mondo. Quanto danno può fare un libro empio? Dobbiamo proteggere noi e i nostri figli da tutta questa sorta di letture. E al contrario dobbiamo approfondire. Approfondire la nostra fede con buone letture che la nutrono. E poi combattere l'orgoglio intellettuale. Questo orgoglio che tende ad abbassare tutto al livello della propria povera intelligenza. Rifiutando di accettare ciò che era supera. Vi sono dei misteri anche nell'ordine puramente naturale. L'universo è finito, è finito. Grande mistero. Il mistero della vita. Il mistero di dante malattie che non si riesce a sconfiggere ancora oggi. Ebbene non dobbiamo stupirci che in Dio ci siano dei misteri che superano la nostra povera intelligenza. Ma la certezza della nostra fede è fondata su Dio che è la verità stessa. E soprattutto dobbiamo proteggere la nostra fede in questo periodo di crisi all'interno della Chiesa, dove false dottrine sono trasmesse anche dalle più alte autorità. È terribile l'epoca che noi viviamo oggi. Come poter conservare la fede attaccandoci alla tradizione, a quello che la Chiesa ha sempre insegnato e che nessuno potrà mai cambiare, perché Gesù ha detto nel Vangelo che il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno mai. E questa crisi della fede, oggi in cui si afferma che tutte le regioni possono avere valori di salvezza, questa crisi della fede che degenera nella corruzione della morale. Recentemente certi vescovi del Belgio, vescovi cattolici che dovrebbero trasmettere la fede, sono arrivati a concedere la benedizione ad unioni contro natura. Terribile, con il consenso a meno implicito del Papa. Dove siamo arrivati? Non c'è limite, non c'è limite alla corruzione della fede e alla corruzione della morale che si è. Quindi più che mai dobbiamo vivere in maniera attaccata alla fede e quindi alla morale di sempre fondata su questa fede il nostro Signore Gesù Cristo e proteggere anche i nostri figli, i vostri figli, trasmettere loro la fede con la preghiera in famiglia, con il catechismo e poi cercando di per loro scuole veramente cattoliche, non si possono lasciare i nostri figli nella mano di questi corruttori che distruggono la fede. È una battaglia molto importante questa per le scuole cattoliche oggi per trasmettere la fede e per noi rimanere attaccati alla liturgia tradizionale, alla Santa Messa di sempre, non sottometterci a un rito fatto per pregare insieme ai protestanti, che sa di eresia, sottomettersi a una liturgia che distrugge la fede, a una predicazione che spesso è condita da errori. Dobbiamo proteggere la nostra fede, fare sacrifici per avere sempre la Messa tradizionale, allora pregare, recitarvi il Rosario, leggere la Messa sul Messario ma non andare a queste nuove liturgie dove ci sono sacrilegi come la comunione nella mano data da laci. E poi dobbiamo aumentare la nostra fede. Questa crescita nella fede, nella nostra anima, è legata alla carità. Più si ama Dio, più si crede in Lui, più si ha fiducia in Lui. Salta Alfonso dei Viguori, in questo libro magnifico che vi consiglio di leggere, La pratica dell'amore verso Gesù Cristo, ci dice che più amiamo il nostro Signore, più crederemo in Lui. E approfondire la verità tramite lo studio, come vi dicevo, tramite la meditazione, la contemplazione. I Santi sapevano vedere Dio dietro alla natura, San Francesco riconosceva il Creatore partendo dalle creature. Tutto il creato gli parlava di Dio, come dice la Sacra Scrittura, i Cieli e la Terra cantano la gloria di Dio. E anche nelle nostre prove. Perché il Signore permette delle prove e delle cruci? Proprio per farci crescere nella vita spirituale. Senza prova non c'è virtù. E nelle prove è lì che dobbiamo fare atto di fede, abbandonarci a Lui. Gesù confido in voi. Abbandonarci a Lui, chiedere il suo aiuto nella preghiera e poi trasmettere la fede intorno a noi. Ogni cattolico dovrebbe avere un'anima di apostolo, soprattutto oggi. Questa crisi nella Chiesa è una crisi di guide spirituali. Il Signore vuol servirsi di ognuno di noi per trasmettere questa fede. Da qui l'importante è di conoscerla, approfondirla, amarla, per dare questa luce che il Signore vi ha dato, una grazia straordinaria, che non è soltanto per voi. Trasmetterla intorno a voi per trasformare il mondo alla luce della fede. La Sacra Scrittura ci dice che il giusto vive della fede. Noi dobbiamo vivere di questa fede. Interpretare tutti gli eventi della storia della nostra vita alla luce della fede, condurre la nostra vita illuminati da essa per trasformare il mondo intorno a noi a questa luce. Chiediamo la grazia alla Madonna. La Madonna è un esempio straordinario di fede. Fede nella parola dell'Arcangelo Gabriele, fede sotto la croce, vedeva suo figlio crocifisso, morente e credeva in lui, nella sua divinità. Credeva che quest'uomo che sarebbe fra quattro istanti morto sarebbe risuscitato, che quest'uomo era il figlio di Dio. La fede della Chiesa è rimasta viva, unicamente nella Santa Vergine, si può dire, quando gli apostoli avevano abbandonato il nostro Signore Gesù Cristo. Chiediamo a lei di avere una grande fede in nostro Signore Gesù Cristo, un grande amore per lui e questo desiderio di farlo regnare nel nostro cuore, nella nostra famiglia, intorno a noi, nell'attesa di contemplarlo un giorno per sempre in Paradiso. Così sia. In nome dei Patris, Figli e Spirito San, di Amen. Sia rodato Gesù Cristo. Grazie.